Ecco a voi, Billy Hope! Andiamo! Sapevo che era dura. La mia famiglia ne ha passate tante. Ci vorrà un anno perché ti revochino la sospensione, quindi zero guadagni. Un momento può sconfiggerti. Amore! Ti prego! Un'occasione può riscattarti. Non stavo, Buu. Non stavo. Ti va di combattere per il titolo? La Hope non ha chance. Pensi di poterlo battere? Ti darò tutto me stesso. Il tuo destino è nelle tue mani, Sao Buu. Dal 2 settembre al cinema.